I 100 milioni Questi 100 milioni sono usciti dalla Minotauro e hanno iniziato a rimbalzare per mezzo mondo. Stanno cercando di renderli irintracciabili prima di farli sparire in qualche paradiso fiscale. Questo sempre che qualcuno non li prenda prima. Avvocato Piazza. Lei è una risorsa preziosa. Stavo dire Buraghi, io la ringrazio, ma purtroppo devo scappare, un altro appuntamento. Commissario Valerio Di Leo. Guardi che parla che vuole da me. E non mi abbracci. Allora, come procedono le indagini sul clan Corapi? Non ha nessuna novità, dottore. E la bella avvocatessa? Chi incontra? Nessuno. Devi aiutarmi, Maya. Mi dispiace, ma non posso. Ma perché cazzo è tuo zio? Maya è il numero due dei Corapi. La sondrina muove miliardi, molti dei quali qua a Milano. Papà, sono i cattivi quelli. I più cattivi di tutti. Aonde avviva? Aonde siamo i sordi? Non ho chiesto la sanguina. I suoi ziii sono puti, tutta la razza di Corapi. Puti in 48 ore, compa. Sembra di portavager. 300 paleoni. Aonde sui i sordi? No! Tieniti! Sono tutto morti. Ti fa una chiamata da santa. Non si può dire di no a santa. Mi sarebbe piaciuto conoscere il mio padre. Si sentiva il più furbo di tutti. Ed è per questo che l'hanno ammazzata. E non è la verità?